Siamo a Ravenna, oggi è il giorno della conferenza internazionale New Indicators for a Better World, un panel di speaker da tutto il mondo a parlare di indicatori ambientali. Siamo con Alessandra Bonoli da Bologna e oggi vogliamo sapere da lei quali sono le keyword, i punti principali della sua presentazione nel pomeriggio, lo ricordiamo. Buongiorno, io insegno Ingegneria Ambientale, mi occupo quindi di materie prime, risorse naturali, le problematiche oggi, la sfida del presente e anche dell'immediato futuro è proprio connessa all'esaurimento delle risorse naturali, alla loro valorizzazione, come possiamo immaginarci, quindi un approccio sostenibile all'uso delle risorse e al riciclo di moltissimi materiali, rifiuti, la stessa acqua reflua, che potrebbe dare un contributo appunto alla riduzione di queste problematiche connesse all'esaurimento delle risorse. Gli indicatori nel campo dell'esaurimento delle materie prime possono essere molteplici con diversi approcci, da quello economico a quello squisitamente geologico e fisico. Io credo che la risposta più corretta sia un approccio integrato, come in molti altri casi, perché un indicatore, un parametro di valutazione ha senso se dà una risposta globale, in termini certo fisici, ma anche economici, sociali, di ricaduta sociale e ambientale per il nostro prossimo futuro. Grazie e buona giornata, buon lavoro. Grazie a te.